Non c'è niente. Perché non piace sparare nel sedere alle galline? Ti ho fatto esplodere tutte e tre anch'io. Ok, andiamo qua dietro a recuperare le puntabilità e scoprire la zona? Ma volentieri. Allora, recuperiamo un mezzo, gentile sembra. Vieni a vedere questo simpaticissimo mezzo. Ah, arriva... no! Elicoptero, ricoptero! Allora ci aveva ragione. Andiamo. Sali, sali, sali. Ah, fai, 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 fai. Ma che arriva l'elicottero, dobbiamo andarci. Fai, 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 fai. Guarda che esplodiamo. Oh, bene. Benzina di più. Tu davvero mi stai facendo morire per questo? Mi hai schiacciato. Da di minchia. Mi hai schiacciato. Adesso muoio anch'io, guarda. È probabile. Che cazzo hai messo fatto. Per della benzina, poi, guarda. Per un euro e cinquante di benzina. Capito, tu mi hai schiacciato e mi hai ucciso. Porca traia. Eh, seguo. Non spararmi. Se c'è una cosa che mi ha insegnato GTA, è che per evitare di farsi sparare addosso, devi evitare di sparare addosso. Ho capito, ci stai inseguendo l'elicottero. No, non ci segue più. Sì, è lì sopra. No, non ci segue più. No, non ci segue più quando noi siamo un furgone che trasporta medicina. E qua c'è un'elicottero di lato. Ah, e questa è la zona dove dovevamo andare. E l'ho fatto così, siamo arrivati a un sorprezzo. Uno qua. Due. Pensi di riuscire a prenderlo? Un'altra di qua che arriva e fa il giro. Guarda che muore, Sempa, guarda che muore. Sempa muore in diretta? Sei morto davvero. Porca miseria. Sei morto davvero. Porca miseria. Guarda come sei morto male. Tutto storto. Merdo, non pensavo entrare. Oh, cos'è? Che chi è? Granata, come mierda, culeros. Cazzo l'ho preso, il grande. E con la granata l'ho buscato. C'è un punto esperienza. No. No. Allora. Allora va a far culo. No, dai. Luogo sconosciuto. Vai. Ciao, ciao. Ciao, ciao o cosa? Oh, merda. Eh, sì, sì. Merda. Cazzo. Era nella mappa. Era nella mappa. È stato bellissimo. No. È stato bellissimo. Basta, bene, ti chiuderei qua il video. io ho scoperto che i fari che illuminano di sicurezza se spari al vetro si rompono se spari di lato non contro il vetro ma contro la parte metallo non succede niente ok ecco la base dell'unità stiamo cercando il capitano che in contatto con iuri è pulito il bersaglio ci serve vivo c'è uno qua cecchino in cima alla torre l'ho segnalato qui c'è un generatore generatore cosa dobbiamo fare con generatore il generatore cosa l'ha fatto va tipo sbloccato ucciso e va il generatore va come si dice se lo distruggi ho trovato il tizio da interrogare ho trovato il tizio da interrogare qui si dice entrare si scavalca un po' qua si ci aiutano c'è un piccolo gruppo di bersaglio occhio da in fondo opla tutti al buio ah fico si apre anche il cancello così ci sono altri due da dentro occhio che ti hanno sentito sono un po' in allarme si ho visto ci hanno beccato ci hanno beccato vuol dire che arrivano che cazzo una granata mi hanno tirato porca arrivo attraverso l'elicottero ho chiesto ai ribelli di fare fuoco col mortaio cos'è niente è giusto il mortaio così puoi divertirvi ed è ancora vivo si è ancora vivo non prendi per questo ti sei interrogare è sopra di là ci vado io stiamo dentro a todas las unidades comienze dell'attacchio nemico a terra nooo ho sbagliato tasto sempa ho sbagliato tasto nooo perché perché ho premuto la f invece della e che figura di merda e l'hai ucciso sii perché l'hai accoppata ho sbagliato tasto cazzo ho sbagliato tasto si sempre lì qua c'è ciao dentro lì dove c'è il tipo dovevamo interrogare c'è qualcuno cazzo e me lo dici quando sono dentro cazzo e ma non hai visto l'allone viola non era taggato per niente ho capito ma l'allone viola non l'hai visto non ci ho fatto caso ho pensato fosse tutto libero oiga che cazzo succede? ok interroga mi sparo? mierda no uccidetemi subito tanto non parlo la scelta è tua ma con due pazzi sadici come Yuri e Polito un giorno potresti esserci tu appeso al soffitto non ti puoi fidare sarebbe un sollievo se li facessimo fuori senti non sono una spia ma diciamo che si mi fanno paura il fatto è che non sono nemmeno a Itakwa allora falli tornare a Itakwa di chi hai un pacco per loro ah gli facciamo tornare oggi è Polito agnello pronto per la consegna un borego vale quindi gli abbiamo teso una trappola ai Polito nomad finalmente abbiamo trovato Yuri e Polito l'ES ha incrociato i dati del gps dell'auto con la decrezione del prigioniero in modo che soffrano andiamo a farli soffrire allora questi qua ma diretti sì che è un'epoca che è un'epoca